Dopo l'assignalazione che abbiamo fatto un mese fa, devo con tanta gioia comunicare che entrambi i comuni si sono adoperati, ci siamo messi in contatto con i tecnici del comune e in particolare il comune di Vanefoglia ha già ripristinato la parte della strada di sua competenza, sistemando le buche che c'erano sul manto stradale e ha in pratica messo a progetto l'area asfaltatura di alcune parti che non possono essere ripristinate perché l'asfalto era completamente degradato e rovinato. Per quanto riguarda la parte di Urbino, il sindaco di Urbino ci ha comunicato che hanno messo a base l'area asfaltatura della loro parte che è completamente distrutta e quindi non riparabile, sarebbe stato solo uno spreco di soldi pubblico ripararla e quindi siamo molto contenti di comunicare questo primo intervento che già ci permette anche psicologicamente di andare avanti con un po' più di fiducia verso il futuro. Relativamente a ciò che sta accadendo in questo momento, noi ci stiamo adeguati a quelle che sono le normative, quindi abbiamo ridotto il numero di posti e siamo aperti il fine settimana sabato e domenica a pranzo e durante il weekend sono aperte la struttura ricettiva per gli appartamenti. Abbiamo adesso promosso sui social dei weekend dove viene offerto un pacchetto di alloggio, cena e colazione. Queste sono le novità a breve. Nel medio periodo stiamo adesso attivando un nuovo portale basato sul turismo esperienziale che comincerà a promuovere ormai da gennaio, perché in questo momento l'abbiamo stoppato, dei weekend esperienziali da offrire ai nostri clienti. Saranno ad esempio basati sulla ricerca del tartufo, quindi andremo insieme nelle tartuffaie a trovare il tartufo con degli esperti e poi cucineremo insieme ai nostri cuochi il tartufo che abbiamo trovato insieme. Eventi tipo questi possono essere anche relativi alla cucina. Impariamo a fare la pasta in casa, le tagliatelle in casa o le crostate, cose semplici della nostra tradizione. Queste sono le novità principali perché riguarda la parte ricettiva e ristorazione. Dal punto di vista della promozione artistica del territorio siamo in contatto con un importante artista italiano col quale nel primo trimestre dell'anno organizzeremo un evento per sviluppare delle opere di ceramica materica che faremo poi nel nostro laboratorio in struttura. Ringrazio TV Rossini per questa opportunità che ci dà e per la possibilità che dà a noi piccoli imprenditori di poterci in qualche modo promuovere e anche in qualche modo aiutarci a risolvere questi piccoli problemi funzionali che abbiamo. Grazie.